Juventus è in vantaggio, 19 minuti giocati Alex Del Piero, diagonale vincente, preciso sul secondo palo e dunque si sblocca il punteggio. Juventus 1 qui ad Arezzo, linea a te. Intanto c'è Breme che esce sul calcio d'angolo e colpo di testa, sotto misura di Chiellini che raddoppia per la formazione juventina. Seguiamo questa azione dell'Arezzo, il lungo lancio è per Floro Flores, area di rigore. Floro Flores, il tiro, la rete di sinistro da parte dell'attaccante dell'Arezzo. Punizione in favore della Juventus, Del Piero, palla in area di rigore, la palla che finisce in rete. C'è stata una deviazione sotto misura e la Juventus porta a tre le sue marcature ancora con Chiellini, dovrebbe essere stato lui l'ultimo a toccare. Il gol della Juventus intanto, il quarto al trettunesimo minuto di gioco ha segnato Del Piero, dunque siamo giunti, ripetiamo il trettunesimo, la Juventus sta rotondando ancora, Arezzo uno, Juventus quarto, la tela linea. C'è il quinto gol per la Juventus, tre seghe, ancora lui naturalmente, l'uomo d'aria, era lì e ha colpito con il destro. Niente da fare per Bremec, Arezzo uno, Juventus cinque. Poi va l'attacco Bondi ma siamo davvero a termine, pochi secondi alla fine, si preparano ad esultare i tifosi della Juventus e finisce. Bentornata Juventus, bentornata nel tuo campionato, il campionato di Serie A. I giocatori si abbracciano, hanno indossato tutti una maglia rosa sulla quale c'è un'iscrizione, ovviamente è un'iscrizione che celebra il ritorno in Serie A della Juventus. Juventus che è stata penalizzata per vicende non tecniche, è una squadra forte, lo era in Serie A, lo è stata in Serie B, è una squadra pronta per celebrare altri successi. È un augurio che facciamo al rinnovato club bianconero perché ritorni ai fasti del passato. Davvero, complimenti a Didier Deschamps, complimenti alla Juventus, complimenti ad Alex Del Piero, trascinatore, umile, grande campione. Juventus batte Arezzo 5-1 ed è di nuovo in Serie A.